I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito ad acerra un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia a carico di 19 persone, quelle delle quali 17 sottoposte alla custodia in carcere, una alla misura degli arresti domiciliari e una alla misura del divieto di dimora. Tutte ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazioni di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché di estorsione, detenzione e porto di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. In particolare dall'attività di indagine sarebbe emersa l'esistenza di due organizzazioni criminali camorristiche operanti nel comune di Acerra, unite da un'alleanza ma tra loro distinte, nonché l'esistenza e l'operatività di un'associazione dedita al narcotraffico. Sarebbero inoltre emersi vari episodi estorsivi in danno di imprenditori, nonché la disponibilità di armi.